io ho fatto lo studio di fattibilità per la fondazione housing sociale cioè lì la fondazione che avrebbe dovuto realizzare gli interventi di housing sociale questo all'inizio degli anni 2000 e oggi sono stato chiamato a fare il presidente dopo vent'anni ho trovato innanzitutto una fondazione in piena salute che ha realizzato centinaia di progetti e soprattutto popolata da competenze che sono veramente rare per la rigenerazione urbana quindi credo che si tratti di una realizzazione che per me è stata di grande soddisfazione il fatto di vedere che un'idea all'inizio soltanto embrionale si è sviluppata in modo così efficace e che affronta un problema rilevantissimo per le città di oggi